buonasera a tutti siamo collegati con franco fracassi per una nuova intervista ciao franco ciao ormai con il nostro quasi un abbonamento trimestrale nel senso che ogni ogni due o tre mesi più o meno ci sentiamo per un nuovo libro dunque prima di iniziare volevo a farti ancora i complimenti per la splendida intervista che hai fatto a giuseppe o joseph tritto la 10 15 giorni fa non solo ha fatto un botto di ascolti ma per chi non lo sapesse franco re intervisterà joseph tritto la prossima settimana probabilmente e abbiamo anche aperto un articolo su logo comune dove tutti quelli che sono iscritti possono scrivere le loro domande da girare a franco che poi le girerà a alcune non tutte ovviamente a joseph tritto cioè se avete qualche domanda particolare per tritto scrivetelo su logo comune e poi io le passerò a franco prima della nuova intervista sì noi stiamo raccogliendo ne abbiamo raccolte tantissime per la verità ah ok e vanno bene insomma tutte le domande vanno vanno bene dopodiché dovremmo no di sfoltire insomma quei 5 o 6 concetti fondamentali che tu ritieni che sono i più diciamo i più richiesti anche io faccio sempre così di solito sì dunque oggi parliamo del tuo nuovo libro che hitler 1945 la fuga i segreti le bugie il titolo ovviamente spiega già chiaramente di cosa si parla io mi ricordo che alcuni anni fa avevo lì avevo letto un libro dell'argentino mi sembra che si chiamasse alle alex bastia qualcosa del genere che parlava anche anche questo della fuga di hitler però lui aveva fatto soprattutto una raccolta di documentazione e di testimonianze di chi lo aveva visto in argentina e sud america mentre invece mi sembra di capire che il vostro lavoro si riguardi molto di più la preparazione della fuga e retroscena oltre che la fuga stessa giusto si riguarda riguarda tutto perché insomma se uno deve spiegare qualcosa deve spiegare per bene come una rapina in banca si spiega in un film si spiega anche come è stata organizzata anche perché come è stata organizzata la fuga è forse la cosa più interessante di tutte e io e la mia collega paola pentimella testa abbiamo raccolto una veramente una questa volta una quantità impressionante di documentazione ufficiale sovietica britannica statunitense tedesca e così via argentina e per cercare di comprendere esattamente cos'è accaduto e appunto noi spieghiamo sia come è stato organizzato la fuga tutti i vari personaggi ci sta una spiegazione approfondita di chi sono i vari personaggi chiave al di là dei tedeschi insomma che hanno avuto che hanno preso parte a questa a questa organizzazione e che hanno favorito la fuga del Führer e poi la fuga in se stessa e poi c'è una parte che invece riguarda la spiegazione insomma tecnica di di tutta l'analisi forense che hanno fatto i sovietici perché i sovietici sono gli unici che sono arrivati lì a berlino e nel bunker quindi sono gli unici titolati diciamo a dire qualche cosa prima di parlare della ipotesi o tesi della fuga diciamo prima qual è la versione ufficiale perché volendo smontare una versione ufficiale la versione ufficiale è frutto di uno storico che durante la guerra come è accaduto a molti accademici di oxford si era arruolato e è stato preso dai servizi segreti britannici l'MI6 costui ha ricevuto un ordine da parte di Churchill tramite un personaggio che è noto per un altro motivo Ian Fleming il creatore l'inventore di 007 che gli ha ordinato di andare a berlino questo alcuni mesi dopo lui arriva a berlino nell'ottobre del 45 Hitler ufficialmente sarebbe morto il 30 aprile quindi sono passati maggio giugno luglio agosto settembre cinque mesi dopo lui arriva a berlino cinque mesi dopo con il seguente mandato da parte Churchill la guerra non è finita se noi non dichiariamo ufficialmente che Hitler è morto e non raccontiamo la storia della sua morte quindi lui arriva con questo mandato ovviamente cinque mesi dopo non trova nulla perché potete immaginare quanto poteva quali prove materiali potrebbero esserci intorno al bunker o dentro al bunker dopo cinque mesi insomma al di là dei bombardamenti avevano transitato per quel posto centinaia se non migliaia di persone avevano distrutto tutta la scena del crimine ovviamente non c'è il corpo ma scusa Franco però dal 30 aprile giorno ufficiale della morte al momento in cui arriva questo inglese a berlino ci sono cinque mesi nei quali i giornali cosa raccontavano? i giornali raccontavano quello che gli dicevano i sovietici i sovietici tant'è vero ci sono molti giornali che dicono Hitler dove è andato a finire e così via i sovietici arrivano non trovano nulla dopo due giorni trovano qualche cosa dissotterrano dei cadaveri che stanno dentro una buca gli fanno l'autopsia fanno tutto quello che serve fare e loro dicono A che non si tratta di Hitler B che entrambi i cadaveri sono morti per avvelenamento quindi nessun colpo di pistola niente di niente entrambi morti per avvelenamento ma no scusa forse non ho spiegato bene la domanda il 3 di maggio del 45 sui giornali italiani c'è scritto Hitler è morto? Hitler è morto perché ufficialmente c'è un annuncio della radio tedesca che dice che Hitler è morto e si è suicidato quello è il problema che ovviamente tutti volevano il cadavere tutti volevano un feticcio come è successo per Mussolini a piazzare Loreto insomma ha uno bisogno di una cosa fisica di qualcosa di tangibile i sovietici questa cosa tangibile l'hanno trovata un qualche giorno dopo il problema è che hanno si sono resi conto che non è a lui tant'è vero che Stalin non solo Zhukov che è il comandante in capo di tutte le truppe sovietiche a Berlino in una conferenza stampa annuncia dice non abbiamo in mano il cadavere di Hitler Hitler è scappato ma Stalin lo dice anche nel corso della conferenza di Potsdam a Truman e a Churchill gli dice noi non abbiamo in mano il cadavere di Hitler Hitler è fuggito allora di fronte a questo e di fronte al fatto che i sovietici fanno una nuova inchiesta i sovietici hanno fatto ben due inchieste la prima sul momento e poi successivamente hanno fatto una seconda inchiesta perché volevano avere la certezza di questo e la seconda inchiesta ha smentito la prima dicendo sostanzialmente che non erano morti in quella maniera lì ma anche la seconda inchiesta ha sentenziato che quelli non erano i cadaveri di Hitler e Eva Braun a quel punto però c'era bisogno di un cadavere il problema era questo c'era bisogno di un cadavere di una storia allora viene mandato questo Hugh Trevor Roper a Berlino per raccontare la storia lui non trova nulla non avendo prove fisiche l'unica strada che può percorrere è quella dei testimoni allora ci sono solo tre testimoni che hanno dichiarato di avere visto il cadavere di Hitler questi tre testimoni nessuno dei tre è stato interrogato dal signor Trevor Roper perché erano due in mano ai sovietici e uno in mano agli americani e in tutti e tre i casi sia i sovietici che gli americani dicono al britannico ti mandiamo la trascrizione dei nostri interrogatori allora è un po' scusa mi viene in mente quando ci hanno fatto vedere la trascrizione dell'interrogatorio da Guantanamo di come si chiamava quello che era stato ritenuto il mastermind dell'11 settembre cioè noi la sua testimonianza non l'abbiamo mai sentita ci hanno fanno vedere gli americani un foglietto dicendoci quello che ha detto lui siamo a sto livello praticamente più o meno sì più o meno sì quindi lui riceve queste tre queste tre trascrizioni e queste tre trascrizioni peraltro raccontano tre storie diverse perché uno dice che Hitler si è sparato la tempia sinistra prima però aveva avvelenato aveva Braun l'altro dice che aveva si era aveva sparato aveva Braun e poi si era sparato in bocca e il terzo dice che si è sparato la tempia destra e poi quindi tre persone le uniche tre che avrebbero visto Hitler vivo raccontano tre storie diverse tra di loro per di più questi tre a un certo punto nel corso degli anni successivi vengono liberati tutti e tre smentiscono le loro dichiarazioni perché dicono che le hanno ottenute sotto sottotortura e in quel momento avrebbero raccontato il parole testo ai loro tutti e tre hanno raccontato la stessa cosa avrebbero raccontato qualsiasi cosa pur di compiacere chi li stava interrogando certo quindi specialmente se era così importante dare al mondo la versione ufficiale una volta per tutti esattamente esattamente come quelli di Guantanamo che ovviamente confessavano perché se no non facevi contenti gli americani della CIA esattamente e quindi Trevor Roper racconta ricostruisce questa storia della morte di Hitler attraverso questi tre testimonianze e poi una serie di altre testimonianze raccontano tutto avanti il contorno e dopodiché lui una volta che ufficializza questa storia in un libro prima fa una conferenza stampa ufficiale poi l'ufficializza in un libro questa è diventata la storia finita sui libri di storia e la cosa incredibile è che visto che si sa come ha ottenuto queste cose Trevor Roper come ha ricostruito la sua storia nessuno storico non solo nessun giornalista dell'epoca ma nessuno storico ha mai messo in dubbio questa cosa almeno gli storici quelli ufficiali cioè lui è diventato il cantore della morte di Hitler ufficialmente ma tanto poco ci credevano sia i sovietici che hanno dato la caccia a Hitler fino al 1956 solo nel 1956 i sovietici hanno detto basta ma perfino i britannici e gli americani ufficialmente hanno tenuto aperta la ricerca di Hitler l'FBI ha dichiarato chiusa la ricerca di Hitler anche l'FBI mi pare nel 1955 o nel 1956 gli inglesi un po' prima allora non si cerca un cadavere non so come dire per di più loro nella loro ricerca non è che ricercavano a vuoto perché ci sono i documenti di questa ricerca non è che ricercavano a vuoto loro nella loro ricerca ricostruiscono esattamente tutto quello che è accaduto cioè dove era passato rintracciano i testimoni rintracciano prove materiali lo trovano fisicamente l'FBI riesce anche a trovarlo dove si trova in Argentina quindi diciamo che è solo che a quel punto nessuno poteva dire guardate che Hitler è ancora vivo perché ti puoi immaginare che cosa sarebbe potuto accadere a livello mondiale cioè sarebbe stato il pandemonio oltre al fatto che gli americani in parte gli inglesi ma soprattutto gli americani devono in qualche modo giustificare il fatto che fosse ancora vivo no soprattutto sarebbe nato un problema enorme perché chi l'ha aiutato perché mica uno da Berlino prendia la valigia e poi all'aeroporto e parte esattamente usciato sotto il naso dei sovietici e poi è stato aiutato dai britannici e dagli americani quindi in qualche modo sarebbe stato un disastro un disastro totale per tutti e tre i paesi allora ricostruiamo invece adesso voi tu nel libro scrivi che addirittura dal 42 dal dicembre del 42 iniziano già a pensare Himmler e chi scusami e Bormann e Bormann e il numero due del nazismo molti dicono che in realtà fosse Bormann a comandare non Hitler ok loro due decidono già al 42 che è necessario fare un piano di fuga perché pensano che la guerra non sarà vinta sì perché nell'autunno fine autunno del 42 allora in Africa c'è già stata la battaglia di El Alamein quindi le truppe dell'Aster erano in rotta in Oriente le Midway c'erano già state e anche i giapponesi erano in ritirata per di più tutto il fronte orientale quindi la guerra la parte decisiva della guerra insomma il fronte sovietico allora i tedeschi si erano impantanati a Leningrado non erano usciti ad entrare a Mosca si erano impantanati a Mosca e stavano perdendo era evidente a tutti la battaglia di Stalingrado quindi avevano chiaro non erano stupidi insomma erano tante cose ma non stupidi avevano chiaro quello che sarebbe accaduto quindi Himmler e Bormann Bormann sul mandato di Hitler si incontrano e chiariscono questa cosa e poi decidono il da farsi cioè il Reich deve sopravvivere le sue idee devono sopravvivere il suo leader deve sopravvivere non ha importanza dove ma l'importante è che sopravviva i tedeschi però che sono tedeschi quindi sono molto previdenti insomma non è che ragionano all'impronta si erano già portati avanti col lavoro perché nel corso degli anni 30 avevano sostanzialmente colonizzato si erano impossessati dell'Argentina cioè l'Argentina è diventato un paese totalmente nazificato e totalmente nelle loro mani sia dal punto di vista economico e dal punto di vista politico Juan Perón era un fascista convinto lui era un ammiratore di Mussolini e Vita Perón invece era nazista e entrambi poi il risultato ci sono i documenti ovviamente di questo il risultato fossero al libro paga di Bormann già da molto tempo quindi diciamo che avevano costruito in Argentina quel che dovevano fare insomma avevano costruito la loro via di fuga in più ovviamente però l'Argentina è lontana ci devono arrivare quindi avevano costruito le varie tappe intermedie le tappe intermedie erano la Spagna che era una tappa fondamentale perché c'era Franco che aveva vinto la guerra civile grazie soprattutto a Hitler e quindi gli aveva messo a disposizione gli aeroporti i porti gli aveva messo a disposizione qualsiasi cosa e quindi i sottomarini i tedeschi che portavano i nazisti in Argentina partivano dalla Spagna da Vigo dal porto di Vigo ci sono altissime testimonianze oramai ci sono anche libri di storia che raccontano questo insomma sono diciamo sono sfuggiti alla cattura alla fine della guerra oltre 60 sottomarini tedeschi e sono quelli che hanno fatto avanti e indietro la spola ecco ci diventerebbe quasi paradossale pensare che su uno di questi non ci fosse Hitler esattamente sono scappati ma non so sulle sottomarini sono scappati sulle navi che partivano dal porto di Genova dove c'era il vescovo Siri che gli dava una grossa mano il Vaticano ha dato un'enorme mano ha fornito documenti falsi e soprattutto ha fornito tutta la rete dei monasteri che c'erano in giro per l'Europa che la maggior parte di questi nazisti e fascisti sono scappati travestiti da monaci o comunque insomma le chiamavano le ratlines giusto? esattamente ratlines è un termine marinaro che indica le corde che portano in cima all'albero della nave quindi quando la nave affonda i topi si arrampicano sulle corde per salvarsi dal naufraggio insomma quindi proprio letteralmente le corde per i topi le corde per i topi sono quelle della nave quando affonda una nave questo vuol dire ratlines quindi quando il terzo Reich è affondato i topi sono scappati attraverso queste corde con l'aiuto decisivo del Vaticano quindi abbiamo il Vaticano abbiamo la Spagna abbiamo l'Argentina e poi serviva il maestro di 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 cerimonie di poker insomma quello che metteva insieme il tutto quanto e questo era è stato il responsabile quello che era il capo del controspienaggio militare americano OSS in Europa che si chiama Allen si chiamava perché adesso è morto Allen Dallas che poi è diventato il capo della CIA dopo gli anni 50 diventato il capo della CIA è quello che ha avviato tutto il programma di guerra psicologica della CIA e quello che ha inventato il programma MK Ultra insomma Dallas è veramente un personaggio purtroppo un personaggio mefistofelico della storia del dopoguerra insomma tra l'altro scusa che se mi infilo sempre è quello che ha fatto praticamente uccidere Kennedy nel senso che dopo la Baia dei Porci Kennedy fece licenziare Dallas perché le aveva messo in difficoltà ovviamente di fronte al mondo con la Baia dei Porci Kennedy ebbe con questo gesto coraggiosissimo secondo me esagerato di far licenziare il capo della CIA e poi quando poi due anni dopo Kennedy viene ucciso chi mettono a capo della commissione Warren chi è la persona che viene scelta per selezionare le prove che saranno esaminate in tribunale e quali no Allen Dallas è il capo della CIA il risultato è stato Oswald ma guarda un po' che meraviglia ma io così qui lo racconto in libro perché ovviamente cerco di raccontare anche quello che è accaduto dopo cioè il trionfo dei vincitori che i vincitori non sono diciamo non è il mondo libero ma i vincitori sono quelli che sono uccidi a farla far franca ai nazisti e ai fascisti che sono scappati a centinaia di migliaia se non qualche milione dall'Europa quindi scusa abbiamo due dopo la guerra abbiamo due tangenti attraverso le quali scappano i nazisti con l'aiuto degli americani una verso l'argentina e una invece proprio verso gli Stati Uniti un po' più di tangenti nel senso che scappano Argentina e Sud America in generale perché non vanno tutti in Argentina ma insomma loro avevano dall'Argentina colonizzato gran parte dell'America Latina e quindi scappano in Brasile in Paraguay in Bolivia in Cile in Venezuela dopodiché ci sono quelli che vanno negli Stati Uniti e non sono pochi però gli Stati Uniti fanno una selezione cioè si prendono gli scienziati quindi medici fisici chimici tutta sta gente qui Von Braun si tra cui appunto Von Braun ma insomma uno dei tanti e in più poi loro si prendono alcuni aguzzini tagliagole particolarmente ferati che gli facevano comodo per esempio la guerra la guerra fredda e retroguardia all'interno dell'Unione Sovietica e così via tipo alcuni capi SS ucraini e di altri posti e così dopodiché gli altri scappano in Sud Africa in Australia moltissimi vanno in Australia infatti sono grosse comunità croate perché i croati ne scappano 90 centinaia di migliaia lì in Australia e poi molti restano in Europa per esempio vanno in Spagna Spagna e Portogallo sono stata una terra di asilo di molti di questi personaggi fra l'altro scusa altra parentesi qui incastriamo tutti i pezzettini a proposito dei croati il capo degli Ustasha Ante Pavelic che era l'Hitler della Croazia praticamente che ne ha fatte quasi di più di Hitler da solo viene salvato invece viene nascosto in Vaticano da più dodicesimo giusto? sì perché uno dei personaggi chiave del Vaticano per la fuga in massa dei nazi fascisti era un vescove si chiama Alois Hudal che era sostanzialmente l'ideologo del nazionalismo croato e quindi diciamo da parte per questo tantissimi croati sono riusciti a scappare perché avevano il personaggio chiave dentro al Vaticano era uno loro quindi ha aiutato più facilmente i croati che di altre nazionalità insomma nazisti di altre nazionalità pensa scusa poi chiudiamo la parentesi mi ricordo che avevo fatto una ricerca sulla questione di Ante Pavelic e c'era proprio avevo trovato un documento della CIA che diceva scritto nero su bianco l'ex leader Ustascia Ante Pavelic risiede attualmente in Vaticano all'indirizzo tal dei tali c'era una piccola stradina con degli appartamenti delle monache per andare all'appartamento se volete incontrarlo bisogna andare all'appartamento numero 3 bussare prima tre volte con questo codice qua gira per Roma tranquillamente con una macchina del corpo diplomatico del Vaticano scritto su un documento della CIA sì 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 ma è questa la cosa incredibile cioè c'è una storia che non c'è stata raccontata al di là della balla della morte di Hitler che invece è una storia importante perché non solo ha evitato il processo a tantissime persone ma ha segnato tutto il dopoguerra perché poi queste persone non è che sono state lì a guardare il soffitto insomma hanno continuato a fare esattamente quello che facevano prima tra l'altro noi tornando indietro sappiamo anche che una buona parte dell'aiuto economico per mettere su Hitler al potere venne proprio dagli americani ai tempi di Prescott Bush che era il padre diciamo il nonno dell'ultimo presidente il padre di George Bush George 41 di Bush 41 io in un intero capitolo spiego questo cioè cerco di spiegare come Hitler è arrivato al potere grazie agli Stati Uniti d'America e grazie a un personaggio cioè Allen Dallas cioè Dallas era l'uomo scelto dalla finanza e di alcune grandi multinazioni americane per rimettere in piedi la Germania economicamente trovare un cavallo vincente dal punto di vista politico e far fare affari a queste persone e lui visto che era di idee già parafasciste insomma e così arriva nel 1925 lui è il fratello il fratello che diventerà il segretario di Stato quindi il ministro degli esteri di Eisenhower lui arriva con il fratello e conoscono Hitler che era appena uscito di galera perché c'era stato un tentativo fallito di colpo di Stato e e si innamorano di Hitler cioè diventano grandi amici perché si ritrovano nelle idee di Hitler e questa è la cosa incredibile cioè questo personaggio nazista poi è stato quello scelto per finanziare e per gestire tutta la lotta partigiana contro il nazismo peraltro di queste scelte assurde ne viene fatta anche un'altra perché appunto ho detto l'Argentina si era nazificata completamente e gli Stati Uniti erano molto preoccupati Roosevelt era molto preoccupato di questa cosa e e allora decide anche perché sappiamo come gli Stati Uniti considerano l'America Latina insomma non possono accettare che l'America Latina sia in mano a una potenza straniera insomma nemica in quel caso lì e allora manda e decide di inviare un suo uomo in Argentina per convincere diciamo più che quelle buone anche quelle cattive Perón ad esistere insomma a dichiarare guerra alla Germania e a sbattere fuori i nazisti dalle cariche di potere insomma ovunque e solo che manda Rockefeller allora Rockefeller la fondazione Rockefeller è quella che ha finanziato tutti gli studi di eugenetica negli anni 20 e anni 30 e grazie agli studi prodotti dalla fondazione Rockefeller che il nazismo ha potuto diciamo provare in documenti ufficiali la superiorità della razza ariana e la legittimazione e sì insomma ha giustificato l'olocausto grazie a quegli studi lì e lui non ha mai cioè la fondazione Rockefeller anche dopo che sono emerse queste cose non ha mai rinnegato questa cosa cioè Rockefeller ha sempre rivendicato questi studi gli studi di eugenetica e quindi sostanzialmente mandano un nazista perché uno che la pensa in questa maniera non si può dire che non sia nazista mandano un nazista a cercare di convincere un presidente di un paese straniero diciamo vicino ai nazisti di staccarsi dai nazisti esattamente e ovviamente allora cos'è che fanno questo il bello che lo raccontano l'ha raccontato Peron lui ha scritto un libro insomma un'autobiografia in cui ha raccontato una serie di cose questo molti anni dopo e lui ha raccontato dice arriva Rockefeller e dice Rockefeller è arrivato dice scusate io capisco benissimo io sono con voi la penso come voi però ho questo compito allora hanno trovato una soluzione che in realtà è stata una soluzione migliore di quello che c'era prima cioè ufficialmente l'Argentina ha dichiarato guerra la Germania nel diciamo fine inverno del 1945 quindi a due mesi tre mesi alla fine della guerra ha rotto i rapporti diplomatici con la Germania e quindi è diventato un paese buono e improvvisamente gli diciamo l'interesse del mondo che fino a quel momento del mondo insomma degli Stati Uniti del Regno Unito e così via che fino a quel momento erano focalizzati con l'Argentina viene meno cioè come non so se penso al Signore degli Anelli l'occhio di Sauro improvvisamente si butta da un'altra parte perché lì non c'è più l'anello e non c'è più il il cattivo e questo ha permesso lo racconta lo stesso Perón questo questo strano marchigegno ha permesso la fuga dei nazisti perché nessuno gli ha più rotto le scatole quella rotta Spagna Argentina non è stata più controllata perché l'Argentina non costituiva più un problema certo tra l'altro c'è un altro appunto tornando anche al libro di Basti che aveva fatto tutte le ricerche in Sud America io mi ricordo che c'erano diversi documenti dell'FBI che appunto avevano confermato sia l'arrivo dei sottomarini Hitler è stato avvistato di qui è stato visto di là eccetera eccetera però abbiamo quindi il solito problema del doppio livello anche qua cioè i livelli bassi dell'FBI gli investigatori sul campo sono quelli che fanno il lavoro il lavoro normale quotidiano trovano informazioni e le mandano a Washington ma i livelli alti invece sapevano benissimo che erano stati loro stessi a far venire Hitler e i suoi coni su questo ho qualche dubbio perché Hoover in persona cioè ci sono documenti che mostrano come Hoover fosse lui a chiedere queste cose e Hoover in persona io ne parlo nel libro produce almeno due documenti ufficiali in cui lui dice guardate che Hitler sta in Argentina ah cioè Hoover avverte il presidente Truman che invece era un uomo molto vicino a Dallas tanto per capirsi tanto è vero che Dallas fa cioè lui e tutti quanti i suoi diciamo il gruppo di potere vicino a lui fa in maniera tale che Truman fosse scelto come vice di Roosevelt perché chi sapeva che Roosevelt sta per morire perché era un uomo loro insomma Truman fa finta di nulla si gira all'altra parte perché quindi l'FBI lo scopre ma la CIA sta zitta in questo caso esattamente ho capito anche la casa bianca sta zitta questa è la cosa non solo la CIA la casa bianca certo anche perché non si potrà mai dire ufficialmente questo mostro il mostro del secolo scorso è Hitler se uno se venisse fuori veramente a livello dei libri di storia delle elementari che è stato messo prima su degli americani poi combattuto usato contro Stalin poi combattuto quando gli è scappato di mano poi però comunque ha aiutato a fuggire a sopravvivere portandosi via tutti i nazisti che servivano in America tutti gli altri in Sud America verrebbe giù il mondo cioè sarebbe quasi peggio che ammettere che Al-Qaeda è stata organizzata che l'11 sistema l'ha fatto gli Stati Uniti ancora più grossa esattamente senti invece ci sono anche dei legami cioè questa organizzazione internazionale che preparò la fuga di Hitler tu scrivi nel libro l'ha poi portato anche a delle estensioni che sono risultate nell'organizzazione Gladio qual è il collegamento che cosa porta dall'uno all'altra allora per la fuga come ho detto prima ci sono state delle trattative tra Dulles e i suoi uomini e Borman e i suoi uomini tra cui Wolf che è il capo della Gestapo a Milano eccetera eccetera a queste trattative che si sono svolte in parte in Svizzera ma in parte in Italia ha partecipato anche il fascismo perché non erano solamente i nazisti a volere scappare anche i fascisti volevano scappare e Mussolini manda un suo uomo un uomo in qualche modo indicato dallo stesso Dulles che questo uomo è Licio Gelli allora intanto perché è stato scelto Licio Gelli perché allora due nel 1943 gli Stati Uniti sbarcano in Sicilia sbarcano in Sicilia grazie a un grosso aiuto che gli dà la mafia allora tutta quanta questa organizzazione diciamo che lega i mafiosi americani e siciliani agli Stati Uniti per permettere per facilitare lo sbarco viene favorita sempre dallo stesso Dulles perché perché Dulles è l'avvocato di Laki Luciano pure eh sì perché Dulles faceva l'avvocato Dulles era l'avvocato di Laki Luciano e quindi lui nel tempo libero esattamente e quindi Dulles indica in Laki Luciano la persona e Laki Luciano suggerisce due personaggi uno è Michele Sindona e Michele Sindona si appoggia a Licio Gelli che era un suo amico cioè già si conoscevano insomma in qualche modo quindi Licio Gelli e Sindona hanno un ruolo nello sbarco americano in Sicilia e quando mentre Sindona non era un ufficiale repubblichino invece Licio Gelli sì era un ufficiale della Repubblica di Salò quando Mussolini dice sì ma voglio partecipare pure io a queste trattative allora Dulles allora Dulles diceva va bene manda Milicio Gelli perché già lo conosco già ho avuto un ottimo rapporto con lui grazie allo sbarco e quindi Gelli va partecipativamente a queste trattative intanto da lì viene ovviamente il potere di Gelli voi immaginate un personaggio che non solo aveva dei rapporti già prima con Dulles ma diventa per due anni diventa pappeciccia di colui che sarebbe diventato il più potente direttore della CIA della storia e quindi già quello in più entra in contatto con la grande finanza americana nel corso di queste trattative e anche con tutta la dirigenza del Terzo Reich cioè quella che poi costituirà l'organizzazione ex SS che viene che è stata insomma chiamata Odessa che è quella che poi ha gestito tutta quanto questa massa questa rete gigantesca di estrema destra di nazisti in giro per il mondo che diventerà il braccio armato degli Stati Uniti per quanto riguarda tutta l'operazione della guerra fredda quindi Gelli diventa una sorta di tramitra a tutte queste cose quindi intanto la figura di Gelli si forma nel corso di queste trattative in più nel corso di queste trattative si parla del dopoguerra perché gli americani a Dallis interessava questo cioè gli fregava poco che i singoli nazisti riuscissero a scappare lui aveva sempre dichiarato in tutte le occasioni il nostro vero nemico è Stalin e non Hitler e quindi lui nel corso delle trattative si mette d'accordo per formare questa Odessa in funzione guerra fredda e una parte di Odessa cioè di nazisti e di fascisti che sono rimasti in Europa hanno formato la spina dorsale di quella che poi sarebbe diventata Gladio perché Gladio non è solamente in Italia Gladio cioè Stay Behind che è un trattato internazionale della Nato segreto con tutti i paesi dell'Europa occidentale diciamo che i nazisti e i fascisti costituivano la spina dorsale di questa organizzazione segreta che poi è stata quella che ha messo in atto tutta la strategia della tensione in ogni singolo paese quindi l'idea di Gladio poi il trattato si è firmato nel 1947 ma l'idea di Gladio è nata nel corso di queste trattative io direi una cosa come pensiero conclusivo adesso chiaramente oggi non è che faccia più una gran differenza sapere se Hitler è morto nel bunker oppure se è morto in un'assienda della Bolivia piuttosto che del Paraguay non importa però è significativo anche queste nuove informazioni questo blocco un'informazione perché ci conferma ancora una volta come da una parte c'è la storia ufficiale che è serena tranquilla e piatta non ha mai nessuna nessuno spigolo per cui ti dicono che è così ed è così Hitler è morto nel bunker Oswald ha ammazzato Kennedy siamo andati sulla luna tutto quello che vuoi poi dietro scopri che c'è tutto un mondo trasversale dove i nemici non sono nemici dove gli amici non sono amici dove tutte le alleanze e tutti gli interessi sono completamente diversi cioè se tu pensi a quello che ci hanno insegnato a scuola c'erano i buoni che erano gli americani gli inglesi che ci salvavano i cattivi che erano i nazifascisti i russi poveracci che hanno sofferto più di tutti alla fine il bene ha vinto il male ha perso chiudere andiamo tutti a far merenda la storia è completamente diversa cioè proprio la stessa gente che l'ha messo su poi a un certo punto l'ha aiutato anche a scappare ma pensa pensa se si andasse poter tornare indietro a raccontare a qualcuno di quelli che combattevano i tedeschi magari convinto di stare con gli americani dice guarda che tu Marines mentre tu sei qui a combattere i tedeschi i tuoi capi stanno aiutando i loro capi a scappare cioè è veramente una vertigine queste visioni completamente girate ma è un po' peggio perché alcuni gruppi industriali americani hanno continuato a finanziare e a far produrre le aziende tedesche che producevano proiettili che poi uccidevano gli americani che sbarcavano in Normandia in Francia in Belgio in Germania addirittura c'è stato un diktat cioè faceva parte dell'accordo e questo ci sono documenti oltre che le testimonianze la testimonianza per esempio il capo della Gestapo Mueller ha raccontato queste cose successivamente perché lui è uno di quelli che sono usciti a scappare e ha detto noi siamo messi d'accordo per non far bombardare una serie di aziende perché la struttura industriale tedesca doveva rimanere integra per dopo perché erano le aziende che erano in società con quelle americane con i loro corrispondenti americani e queste aziende sono aziende che producevano armi infatti scusami io mi ricordo che nel 2005 quando fu eletto Bush l'ultimo 43 andò a fare una celebrazione del D-Day cioè dello sbarco in Normandia andò in Normandia ed era lì con gli ultimi vecchietti rimasti gli ultimi superstiti veterani dello sbarco eccetera eccetera e io mi ricordo che fece un piccolo articolo dove diceva guardate quest'uomo che sta celebrando la vittoria degli americani e soprattutto il sacrificio degli americani morti durante lo sbarco in Normandia che furono uccisi con le armi prodotte con i soldi mandati in Germania dal nonno di quello lì che fa il presidente adesso cioè c'era un cortocircuito pazzesco suo nonno ha finanziato le armi con le quali sono stati uccisi gli americani che il nipote è venuto a celebrare nel giorno del D-Day pensa che che storture pazzesche che ci troviamo di pronto andava a celebrare i morti all'11 settembre più o meno siamo a questi livelli addirittura il nonno aveva il prescott Bush aveva aiutato proprio a finanziare le industrie belliche tedesche quindi i proiettili che ammazzavano i soldati americani li avevano prodotti anche con l'aiuto economico del nonno del presidente esattamente esattamente però appunto la cosa come giustamente dicevi te la cosa pazzesca è il senso della storia allora io credo che questo libro che ho scritto al di là dell'interesse che si ha per la figura di Hitler per tutto quello che è successo nella seconda era mondiale e per tantissimi personaggi di cui abbiamo parlato prima ma il senso è la storia che noi impariamo sui libri di scuola sui banchi di scuola quella che noi leggiamo nei libri che acquistiamo normalmente che guardiamo in televisione quando guardiamo la grande storia nei documentari e così via è quella che ci raccontano oppure è un'altra cosa perché se sono riusciti a truffare l'intero pianeta per più di 75 anni riguardo forse l'evento singolo più importante almeno del ventesimo secolo perché ha sancito la morte del cattivo per eccellenza se sono riusciti a truffare a truffarci e a far sì che nessuno mettesse in dubbio questa cosa ma allora il resto che ci sono raccontato è andata così oppure no io ho anche paura a occuparmi perché sono una passione di storia mi vorrei occupare di tante cose di tanti fatti storici passati quantomeno negli ultimi decenni e c'ho paura perché è come sollevare una pietra e trovare sotto una milione di scarapaggi a questo punto cioè il sospetto che ci abbiano raccontato una marea di balle ce le continuano a raccontare perché si sono riusciti all'epoca figurarsi adesso viene a me viene in mente la citazione di Napoleone che diceva la storia è una bugia sulla quale si sono messi tutti d'accordo sì 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 infatti sta sul nella quarta di copertina del libro ah non l'ho vista perché è la verità è la verità ok senti ti ringraziamo anche questa volta questa è la cosa l'insegnamento è dubitate dubitate sempre è fondamentale anche quando parliamo io e te Massimo bisogna dubitare va bene io dubito di te tu di me a questo punto io dubito anche di me stesso ecco va bene va bene è fondamentale questa cosa cioè non dubitare perché bisogna buttarle in vacca ogni volta bisogna dubitare nel senso che bisogna essere coscienti che ah le cose sono molto più complesse di quello che sembrano quando ci vengono raccontate linearmente non esiste mai una storia semplice lineare da film diciamo e la seconda cosa è che la storia non è una cosa oggettiva ma viene raccontata da qualcuno e allora bisogna capire questo qualcuno come l'ha raccontata come ha trovato le cose perché ha raccontato quella storia e cosa pensava se era una persona che ragionava autonomamente oppure ragionava per input di qualcun altro e beh se già pensi che Churchill manda lo storico cinque mesi dopo perché ha bisogno di una storia per raccontare la morte di Hitler perché senza la morte di Hitler non sta in piedi la vittoria dell'occidente hai già capito tutto è come la morte di Bin Laden cioè a un certo Bin Laden doveva morire poi hanno diciamo tirato fuori quella storia lì e a un certo punto il cattivo a un certo punto deve morire perché se no la storia non finisce cioè non si non si volta pagina va bene grazie di tutto a sto punto ti chiedo prossimo libro ci sentiamo a giugno circa no credo spero a maggio però diciamo maggio giugno il prossimo libro è sulla detta diciamo in maniera molto sintetica la trattativa è stato mafia in realtà è qualcosa di molto più complesso insomma sempre con lo scrivo sempre con Paola pentime la testa che credo sia la maggiore esperta di mafia che ci sia in circolazione e abbiamo attraverso diciamo raccontiamo di una trattativa che parte nel 43 e non finisce mai cioè ancora in corso e attraverso questa trattativa è stata diciamo modellata gran parte della storia d'Italia e non solo perché specialmente la storia del dopoguerra fredda quindi dell'89 in poi del mondo passa attraverso questa trattativa stato mafia sembra un matto a raccontare queste cose ma va sicuro sono vent'anni che stiamo lavorando a questo libro e abbiamo una quantità di materiale impressionante ormai ci hai abituato che quando fai le affermazioni poi nel libro c'è sempre la controprova di quello che è posso dire scusa l'ultima cosa perché come tu sai i miei libri non si trovano in nessuna parte quindi vorrei ricordare chiunque sia interessato ad acquistarli deve scrivermi la mia email personale non c'è altro modo che è francofracassi1 chiocciola francofracassi1 chiocciola gmail.com se non mi scrivete non avrete purtroppo per voi e anche per me i miei libri va bene grazie mille franco ci sentiamo fra due o tre mesi allora arrivederci ciao ciao Grazie a tutti.